Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui con i due appuntamenti di marzo, ci vediamo il 16 marzo all'oratorio di Arco in uno student party in provincia di Trento e il 24 marzo al GOSH a Roma. Per la data all'oratorio di Arco alla discoteca Jolly Blue i biglietti saranno disponibili il giorno stesso a partire dalle 19.30, vi lascio la locandina nella prossima storia e tunze, 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 venite che ballammo se divertimo. Per quanto riguarda la data che ci sarà a Roma il 24 marzo al GOSH, quel giorno ci sarà un contest Canoro, poi ci sarà il Meet & Greet e un mio mini live e per partecipare al Meet & Greet potete acquistare il biglietto di 15 euro, appunto ripeto per partecipare al Meet & Greet facendo swipe up perché vi lascio il link qui e il link lo trovate anche sul profilo Instagram del GOSH. Ci vediamo a Roma. Guarda qui quanti amichetti bellissimi. Vieni Viola, dove stai? Vai a giocare. Lasciami stamme. Vai! Vedi come cantano. Dai! Vedi! 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 Grazie a tutti.